no sento mi ha dato il cazzo questo si e si perchè se uccidi un nemico quando loro sono vicini scappano ok ok quello è duro no non hai uo ho trovato un bassone con tutto buono che sei mirata sicuramente vedi non ho fatto nulla sono sovraccarico oh sovraccarico oh sovraccarico oh sovraccarico oh sovraccarico oh sovraccarico oh sovraccarico ma cosa dici ok a livello 12 sono livello 9 minchia non ho dato niente c'è di danno faccio da 51 a 66 per secondo si un corpo di via che mi danno un casino di oro ah si lo so sono ricco eh? poi ti darà anche una gamba sicuramente si quella gamba lì serve per entrare in un livello segreto dove però potrei entrare soltanto se avrai ucciso baal qua a livello normale perciò non posso usare questo tanto esatto dov'è che sei che attivo il portale? beh tu fallo tanto poi ci arrivi ma dov'è uccideremo? e ci sono? mi sono segnato a livello bravo a che livello sei? eh 9 anche io adesso posso portare la mia la mia balestra non posso portare altro come? ma non serve la balestra l'assassino ma mi piace ma non serve ma non serve ma non serve ma non serve non importa via con lo scudo e prendiamo l'elmo l'elmo st prendi quella bardica ok ho fatto una cazzata e ho aperto il portale adesso dobbiamo rifarci di nuovo tutto il passaggio sotterraneo no bisogna andare di nuovo lì al punto di prima non ti ricordi dove abbiamo trovato l'albero i scritto schifo questo qui non mi serve la data box ma adesso dov'è che devo andare dentro al portale di che abbiamo attivato nel mio portale entra ma non è esatto appunto io l'ho tolto per portare adesso lo rifaccia tutto no questo ok vabbè tieni questo 26 box sto campo di pietra, io l'ho trovato non dobbiamo andare al campo di pietra dobbiamo andare alla palude ah quale missione facciamo ah cerchi la torre nella palude nera oltre la foresta ok facciamo quello eccomi ah pensavo dovessimo ancora continuare con la missione lì no ma va, quello è finita, adesso ti identificherò gli oggetti eh di GioGio ha identifichato no per sempre chi? eh eh il TheKarKane TheKarKane che abbia salvato ci hai parlato? no parlaci e qua vicino al fuoco ok eccolo vedo vado un attimo a deporre la mia roba Mettiamo via Anello della forza Gamba di Wirt Spada lunga due mani Che mi sta rendendo Uno fino a 28 Se la vendo Amuleto della maestria Fatto Livello richiesto 10 Che palle Scudo della resistenza Me lo tengo Metto via questa spada E vado Hai dei diamanti nella tua cesta per caso? No Te li darei Parla qui con Deckard Cain Parliamo con Cain Come segno di gratitudine Identificherò gratis Gli oggetti per te Eh vai Anche se Purtroppo Non ho potuto fare nulla Contro il disastro Che aveva stato Tristram Sembra che le nostre paure Più oscure Si siano realizzate Diablo Il signore del terrore Ha ancora una volta Allungato la sua ombra sul mondo Oh mio Dio Ok adesso torniamo al campo di pietra Ci sono già stato Lo so dobbiamo rifarci tutto il passaggio Dove sei? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Tutta colpa tua Entriamo nel passaggio sotterraneo Sì Ma l'abbiamo già fatto Perciò non dovremmo incontrare mob giusto? Esatto A meno che non pigliamo un'altra strada Son brodo Eri troppo lento sai Non l'avevo visto Io tengo la minimappa aperta Perché se no non mi ci trovo in stagotta Ok mi è finita la corsa Ok mi è finita la corsa Andiamo dall'albo No è inutile Ci siamo già state adesso dobbiamo trovare Segui la strada Cioè il sentiero qui Eh è un po' mai giusto Tutto in un cadine di mostra Pozione Sto usando la squadra Ah comastri Quanti la chiamarono Volevo non so Vorrei aggiungerlo alla chiamazzo Che è un prezzo Comperebbe solo Sì esatto Bevo una pezione del vigore Tutti hai detto Annetto hai detto che era inutile Non è inutile Adesso è adesso è Ora un pochino serve Poi Non serve assolutamente niente O dai seguimi il sentiero Che se ne frega di cui mostro Devo dare alla mia tipa una corazza Tieni anche se fa schifo Perchè ho preso Ho ricevuto una che si chiama Andor Non essere nemmeno pronunciarlo bene Andor 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 E mi si chiama Liazza E' meglio di Andor Sicuramente bene di trono Boh trono l'ho preso perché Diceva quel personaggio lì Io ho preso un nome a caso Ma proprio a caso Cioè tipo ho pensato al nome Primo che mi veniva a mente lo scritto L'ho messo Che parla la lag? A me non sta lagando Stai lagando tu Ancora mi chiamano comastri Basta adesso mi metto al blocco Aspetta difendemi che lo do Perchè lo blocchi Non lo blocco I metto offline Io sono sempre profilo Visibile A me non mi troppo Il bello che io mi metto Sempre invisibile E rada Mi chiamo comune Perché io so che tu ci sei Ma ti fa volte Che mi proprio in quei E' preciso instante dove c'è Un computer Ho perso il sentiero Vieni vieni Attiviamo questo coso Questa cosa cosa Qua c'è un portale C'è un portale Un portale Sì Un po' Come vuoi chiamare Unile bravo 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 Quei cerchi dove sali E poi ti teletransporta In qualche Alla parte Bravo 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 Non so Dai muori Forziere Io lo giro solo con la minimappa Perché No mi piace Io la guardo qualche volta la minimappa Però non la sento sempre aperta Una cosa La tua pelle si indurisce Dov'è il coso? Ci sei passato Mi sa Vieni Devi andare a destra A destra Adesso solo dritto 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 Guarda la tua sinistra un pochino Dovresti vederla adesso Ho trovato? Sì 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 E' per ora sì Ma beh tu fai un danno Che non so quanto è Per bello alto C'è intendi livelli Stati No con l'armarie Dai vieni Oh mi sa che è abbastanza forte Però adesso Ammullito Non mi identificato Passamelo che tu c'è già Ah beh non mi serve Ci posso da quello più un danno massimo Sai quanto mi serve? Che sparo dal d'infocato io Abbiamo trovato la palude nera giusto? Sì ma io so già dovevi Vieni Come fai a sapere se la mappa si genera sempre Basta che segui il sentiero Non è che ci vuole tanto Ah C'è un sentiero Non ho visto Voi ho detto prima Segui il sentiero Sì 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 ma non lo vedevano Allora ho fatto finca di niente Eccolo Trovato Trovato Sì Cos'è quella palla la voglio Ah è sopra la tua Stavo cercando di accappare quella palla Un anello Non identificato È sempre non identificato Una alla forza più massima Più cinque massima resistenza Vuoi? Vuoi un più un otto alla mana Trovato 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 Cosa? Tieni un anello per te Cosa che fa? Più otto mana E resistenza al danno magico Buono Passamelo Smeraldo spessato Vieni qua Vieni qua da me C'è un gigante Lo voglio uccidere Morto Rubino spessato Vieni Passami l'anello Io ho l'anello Questo Ti metti da questo Perché mi sta portando dietro Con le frecce Ti metti da questo Non riesco a beccare Ecco Più uno alla forza resistenza al fuoco Più sei Non lo porto dietro Un asciaio Grande Fa schifo Sei in questa la palude Per la storia di menti Vieni vieni dentro Ah si Dobbiamo entrare qua Oh cavolo Chi vorrebbe ricordarsi di questo posto? Ok mi sembra è un momento di metterla Ho l'ansciaio Mi sento che ho sempre tanto Non si spreca La nuova Giaco Vamos Come si Ragazzi Mi tende Perché ARDO Vieni Ken F Siccome Su Il Lascia Questa Avedia aumentare mio attacco inferno quello la fiamma che lancio io mi diverto con me mi son distratto un secondo un sacco poi fa un portale no si sono anche i tuoi soldi se vuoi come per anche i miei soldi e cadono per terra tx gli ho presi ma poi ha detto la barri da morì come gli prendi poi gli ridai e li posso anche buttare via non è che se li prendo allora resta nell'inventario per sempre per il sotterraneo della torre 3 ah ci sei giù non ho guardato un secondo e sono morto e perchè c'era lì quel mostro che ma non voglio una lancia nemmeno sta coraggio di aspetta 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 no 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 raccoglie solo roba che non voglio oh mio dio mi è morta e la compagna e si quando muori ti muore anche la compagna vieni dove vai dove vai sto vicino a te proprio provo di muore eh sei sparito entra entra cos'è che mi ha ucciso prima eh perchè c'era lì il mostro che lanciava scariche elettriche quando colpivi probabilmente tu eri in mezzo eh ma io ho lanciato ho lanciato questo forse le scariche elettriche erano guarda che sono belli potenti e scariche elettriche adesso poi non si spiega niente persimi quanti si sono rotti no e li ho presi io eh mi sa di si dai stavo cercando qualcosa per di buttare via tu me lo aiuti aspettate